Regala alla tua azienda un sito capace di comunicare. Chiamaci. Una riflessione sulla crisi economica globale la fa l'Unione Europea in occasione di un vertice internazionale temutosi a Parigi. A rappresentare l'Italia ci sono il ministro Tremonti ed Enrico Letta. Nel 2009 uno degli anniversari più celebrati sarà la caduta del muro di Berlino, un evento che sembrava il trionfo della crisi di mercato e che invece in questi giorni mostra tutti i suoi limiti. La causa è da ricercare con tutta probabilità in un processo di globalizzazione troppo affrettato, così come sottolinea il ministro Tremonti in un suo intervento. Occorrono maggiore trasparenza e meno paradisi fiscali al di fuori della legge. Credo che questo secolo debba essere basato sulla logica del legal standard. Secondo alcuni leader presenti al vertice, Tremonti è un intellettuale che ha capito, prima degli altri, che i diversi paesi hanno vissuto per molto tempo al di sopra delle proprie possibilità ed ora ne pagano le conseguenze. Sentiamo in proposito anche il parere di Enrico Letta. Il grande rischio è quello di passare dal debito privato, che è stato il grande problema di questa crisi, a un debito pubblico. Grazie.